Un consiglio comunale per discutere dell'emergenza rifiuti di Praia a mare, lo chiede il capogruppo di Uniti Vilanciamo Praia, Pietro De Paola, all'amministrazione praticò. La grave situazione che attanaia il nostro paese da giorni, ha spiegato De Paola, ci impone delle scelte condivise. Noi siamo pronti a collaborare con l'amministrazione comunale, a mettere sul tavolo le nostre proposte. A ridosso dell'estate non possiamo permetterci passi falsi. Capitolo differenziata spinta, De Paola è stato critico, troppe lacune nell'organizzazione, ha detto. I cittadini si lamentano e in questi giorni le segnalazioni sulla nostra pagina Facebook, che conta più di 4.000 iscritti, sono aumentate a dismisura. Sappiamo che il problema è regionale, che l'intero Alto Tirreno-Cosentino è una pattumiera a cielo aperto, ma basta volgere lo sguardo alla vicina Tortora, dove la differenziata funzione e il paese è pulito. Secondo De Paola, quindi, le decisioni vanno prese tutte insieme. L'amministrazione convochi un consiglio comunale e prende in considerazione le proposte che faremo. Cittadini e gestori delle attività commerciali sono seriamente preoccupati. L'estate è alle porte, le possibilità che l'emergenza rifiuti, rovini, la stagione turistica sono altissime. Questo problema, a concluso De Paola, si risolve insieme. In tanta Palazzo Campanella i sindaci del Tirreno-Cosentino sono ancora in riunione con l'assessore all'ambiente della Regione Calabria, Francesco Pugliano. Il vertice, promosso dal primo cittadino di buon vicino, Giuseppe Greco, servirà a delineare una strategia per uscire dall'emergenza e per salvare la stagione estiva. Situazione ormai insostenibile, a Scalea, Belvedere e Paola. Nella città di San Francesco il cattivo odore allontana i clienti dai locali pubblici. Le amministrazioni invitano alla calma, ma finora di soluzioni se ne sono viste poche.